Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il Covid non fa più paura, ma non è ancora tempo di abbassare la guardia, sebbene sembrino distanti i tempi delle ondate di contagi registrati in questo stesso periodo dell'anno, nel 2020 e nel 2021. Di conseguenza, le forme più gravi del virus sono in numero decisamente limitato, riducendo anche le ospedalizzazioni e la pressione sulle strutture sanitarie. Come dimostrano i numeri relativi agli attuali degenti nei due ospedali del Piceno di Ascoli e San Benedetto. Il Covid è ancora presente, non ci terrorizza più ovviamente come due anni fa. I ricoveri in ospedale sono estremamente limitati. Abbiamo un paziente da tempo nella rianimazione di San Benedetto, proprio nell'ala destinata ai pazienti Covid, e complessivamente altri dieci pazienti nella Murg, di Ascoli, che da tre o quattro mesi è stata destinata proprio ad accogliere i pazienti positivi con patologie cardiologiche, pneumologiche o altro. Risultati incoraggianti che sono stati resi possibili grazie alla massiccia campagna di vaccinazione portata avanti fino ad ora e che continua con il richiamo della quarta dose, raccomandata soprattutto ad anziani e soggetti fragili. Pertanto prosegue regolarmente l'attività nei due punti vaccinali di Ascoli e San Benedetto, dove, per chi lo richiede, sarà possibile sottoporsi contemporaneamente anche alla vaccinazione anti-influenzale. Ricordo, anche se ormai sarà noto a tutti, che abbiamo due punti vaccinali di popolazione, uno a San Benedetto attivo il lunedì e mercoledì e uno ad Ascoli a Casa della Gioventù il martedì e il giovedì. Lì, negli ultimi 15 giorni, il numero di quarte dose Covid eseguite è di oltre 150 al giorno. E anche lì, se la persona lo chiede, è possibile abbinare la vaccinazione anti-influenzale. Quindi oltre ai 150-160 richiami Covid viene effettuata anche la vaccinazione anti-influenzale.